Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video della project zone 3 della serie delle sette quest'oggi voglio Iniziare un altro percorso come sempre percorsi iniziamo però è così la serie delle sette bisogna fare tanti progetti che ti portano ad altri progetti per inciso avevo necessità di raccogliere Dei ore di cobalto che si trova nel nether e voglio farvi vedere cosa mi dice quando io provo andare nel nether perché E' interessante è interessante e ci sbloccherà quello che faremo in questo episodio per l'appunto Allora se io provo a cercare un blocco di cobalto che in realtà sono abbastanza Frequenti abbiamo uno ad esempio qua dietro abbiamo altri lì e un altro in fondo Se io passo sopra mi dice oltre al nether diamond or a faccelo cazzo non avevo mica Cioè come funziona questo devo mettere da qualche parte funzionerò come un or normalissimo Lo posso enrichment chamber me ne da quattro uno a faccelo cazzo ottimo lo portiamo a casa Comunque avevo bisogno di questo cobalto il cobalto però se io clicco il mio piccone di diamante mi dice harvest level cobalto Necessario cioè diventa rosso vuol dire che non posso raccoglierlo è un di tier 4 Tier 4 penso si riferisca anche al livello della potenza del piccone che bisogno per usarlo che bisogno di per prenderlo Ho cercato sulle wiki e c'è scritto che bisogno per forza di qualcosa di o di alluminio o di stila Oggi ho detto ma io lo stile ce l'ho provo a fare un piccone di stile che è questo qua Però allo stesso modo non va bene ho cercato meglio e ho imparato ho scoperto che Per utilizzare per prendere alcuni di questi or abbiamo bisogno per forza della tinker sconstract Che è una mod che io non apprezzo Particolarmente è una bella mod ma non mi è mai piaciuta non so spiegarvi perché di preciso fatto sarà che non mi è mai piaciuta E però è necessaria Senza questa non possiamo andare avanti e quindi ora inizeremo a capire come fare per portare a casa quel blocco di cobalto Cioè si avverranno di più di blocchi di cobalti però è un inizio è è un inizio Allora io direi che possiamo iniziare mettendo questi nether diamond ore all'interno del enrichment chamber perché Sommersi un botto di diamanti non vengono trasportati di là perché non Non possono essere processati però intanto non li mettiamo e abbiamo otto diamanti in più detto questo Allora di cosa abbiamo bisogno abbiamo bisogno di generare una steel Pichead almeno Steel pickaxe head no abbiamo bisogno di qualcosa con mining level cobalto tipo il terra steel Scusa cerchiamo pickaxe head e vediamo cosa succede pickaxe head Ho bisogno di qualcosa come dicevo in cui c'è scritto cobalto tipo vibrant pickaxe come si fa con il mobile Ok con il vibrant alloy potrei farlo Oppure il dark pickaxe head che usa il molten dark steel Ok qua c'è un botto di roba che fa cobalto però anche l'ardite mi sa che si trova in altre situazioni Il fatto sta che abbiamo trovato quello che potenzialmente potrebbe darci il cobalto anche la compressed obsidian c'era il cobalto Interessante andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti Qualcos'altro con cobalt così bello blu tra l'altro mi sa che come il livello massimo perché è più dell'ossidiana addirittura Quindi tanta roba in derium ok ci sono alcune cose sono un po più complicato Dash non so neanche cosa sia il molten dash cos'è il dash ci sono I Ok è notte red matter democratic People's public of corea ma cosa red ma avere rosso comunismo vabbè lasciamo stare dark matter Bloodwood ci sono molte cose alcune non le possiamo fare altre sì come ad esempio la pulsetta in pickaxe avvalli cintre non so cosa sia Spero nulla di troppo no questa non era la questa dov'è cobalto ok vibrant eccolo qua noi possiamo fare questo Per farlo però come vedete abbiamo necessità di un Di uno smelter Dello smelter di una fucina praticamente dove sciogliere i miei Bellissimi simpaticissimi lingotti che vengono trasformati poi in liquido messi messi dentro questo pickaxe headcast Che mi daranno ciò di cui ho bisogno cioè della mia del mio piccone che può rompere le le robe Ora io non lo sapevo e della stone block 2 c'è stato un passaggio extra ma per ottenere Questi blocchi per fare la fucina cioè se il brix c'è un passaggio extra c'è un passaggio extra Infatti dobbiamo usare la tinkers Tinkers come si chiama sta roba vabbè questa qua tinkers Complement ok la tinkers complement è una versione mini praticamente Della Tinkers construct Però ci permette di fare bene o male le stesse cose da quello che percepisco poi non so se sarà effettivamente così Ma in teoria lo è allora di cosa abbiamo bisogno abbiamo bisogno di tutto questo set di robe in Porcellana quindi a differenza di tutto quello abbiamo visto finora che ha tutti i blocchi scuri bisogno dei blocchi chiari per farli Allora non abbiamo bisogno di tantissimi blocchi D'altà abbiamo bisogno perché una versione mini è compattata abbiamo bisogno di una melter Che è la versione piccola della fucina che si chiude in un blocco singolo abbiamo bisogno di un iter e Potenzialmente basta questo ci serve per smeltare i lingotti o quello che dobbiamo smeltare presi questi Per poi trasformarli in seri brics abbiamo bisogno di un'altra cosa e direi che possiamo usare direttamente il casting basin Perchè diventano blocchi se io metto là dentro Tipo il seri bric liquidi qua dentro diventano direttamente blocchi E mi risparmio di fare i lingotti che diventa un po più uno sbatti potenzialmente Vediamo come riusciamo a farlo allora abbiamo bisogno in realtà di non tantissima roba Solo un botto di porcelain brick per fare porcelain brick bisogno di un botto di porcelain clay per fare un botto di porcelain clay Bisogno di clay e bomb meal il bomb meal per fortuna non è assolutamente un problema Vogliamo fare uno stack forse uno stack potrebbe essere eccessivo facciamo un rapido conto secondo me con Devo anche fare la Fawcett come si chiama quello da mettere sopra Non c'è Eccolo la piccola forma di C Anzi di U Che ti permette di far uscire le cose non lo vedo sinceramente Mi sembrava si chiamasse Fawcett eccolo Porcelain Fawcett ottimo Anche perchè questo non possiamo farlo che siamo di seri bric e noi non ce l'abbiamo quindi va bene Tra l'altro per fare seri bric possiamo usare o I seri bric in sé ma non ha senso perchè non ce l'abbiamo O della compress cobblestone che potrebbe avere senso perchè possiamo averne diverse anche se è una temperatura molto più alta Oppure dei del grut e il grut e noi possiamo farlo perchè si crafta con sabbia clay e e gravel Quindi facciamo metà stack perchè secondo me metà stack potrebbe bastare Andiamo a prendere metà stack di clay Combiniamo le due le cuociamo e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori Nel frattempo però dormiamo sempre perchè meglio dormire ed essere al sicuro Nonostante tutta la roba sia piena di torce Però vabbè abbiamo capito Necessito di un po' di sabbia amici miei Necessito di un po' di sabbia perchè altrimenti qui come faccio a fare tutta la credica ho bisogno Quindi prendiamo questi amichetti Prendiamo il nostro super martello della morte E trasformiamo tutta questa sabbia in dust Giusto? Giustissimo Siamo molto contenti del risultato Anche perchè sei pezzi Non vorrei dire cavolate Ma probabilmente ci basteranno per fare tutto il mezzo stack Ora raccogliamo tutto A parte un po' più pallosa ma che va presa sempre con calma e filosofia Li piazziamo tutti e sei E li rompiamo Alla grande 24 24 forse non mi bastano Però vabbè iniziamo e vediamo dove arriviamo Abbiamo bisogno vada sicuramente Del faucet Quindi lo facciamo e lo andiamo a cuocere già così com'è 6000 E poi tutti questi porcellane Tutte queste porcellane le infiliamo là dentro Ora andiamo a riprendere la tinkers Capito? La tinkers Le due cose di cui abbiamo bisogno Quindi melter e heater Necessitano di rispettivamente Sei pezzi Con un pezzo di glass che ne servono Ah no Forse nel window Si può fare in diversi modi La porzione in window Vabbè forse mi conviene farlo così Così risparmio anche blocchi Non mi basteranno Però ci proviamo Andiamo a prendere tre pezzi di vetro Uno, due, tre Le andiamo a combinare qua dentro del crafting E mettiamo questi di qua E questi di qua Va bene Abbiamo una porcela in window Possiamo fare questo? Assolutamente sì Abbiamo un porcela in melter Che è già una grande cosa Poi abbiamo bisogno di una fornace Quindi facciamo Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Andiamo a creare la fornace E in teoria combinandola con quello che ho già a disposizione Abbiamo il nostro porcela in heater In realtà questo è quanto Non c'è molto altro da dire Mi mancano solo tre porcela in brick Che non mi bastano per fare ciò che voglio fare Quindi ho bisogno di creare un altro blocco di clay Andiamo a prenderlo Prendiamo anche il nostro martellino Usiamo lo steel pickaxe Anzi Non dico che lo voglio buttare Ma lo poserò nel magazzino qui Perché è un blocco inutile che ho a disposizione Che non mi serve semplicemente Ok secchio la mano E portiamo a casa l'ultimo blocco Lo rompiamo Dammi quattro pezzettini Sono quattro, più tre, sette Sono giusto, giusto quelli che ci servono Eh Sono serviti ventotto Vabbè Non sono trenta due Ma c'erano dannatamente vicino Allora Poi lo selenco ce l'abbiamo Ehm Cosa mi manca? Manca solo il coso per fare i blocchi Sì Non ha senso fare l'altro Perché Non voglio fare lingotti Voglio solo fare blocchi Quindi facciamo così Dove potremmo metterlo? Allora La smelte di vera e propria È bella grossa Potremmo metterla qui E potevo metterla addirittura sopraelevata Utilizzando i post Come vi dicevo Qualche giorno fa Tattone comunque Possiamo volare Non è un problema per noi Per il momento però Questa è la versione easy La mettiamo qui E mettiamo Il Liter Sotto Sopra Il melter E già vediamo che Si è collegato Era tutto acceso Anche se non dovrebbe essere acceso Lo lasciamo stare Mettiamo Il casting basing di qua E il faucet Di qua Al lato In teoria Dovrebbe funzionare Alla grande Abbiamo sicuramente bisogno di un po' di carburante Per aumentare la temperatura E Sono 16 ingot di Disponibilità Non è molto grande È la versione base Proprio piccola piccola Anzi aggiungerei Ok Però ci va bene Ci può andare bene Ecco mettiamola così Ehm Dunque 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 Mettiamo In azione il tutto Per andare avanti Ho bisogno di Groot Quindi Altra clay ho bisogno Cacchio C'è un modo più semplice Per ottenere la clay Secondo me Sì Sarebbe dello slug Ma lo slug non ce l'ho Ok A quanto pare Non c'è un altro metodo Va bene Torna la nostra amichetta pazienza Ehm Se abbiamo fortuna Ora non mi ricordo se sono 4 per ogni pezzo di clay Ma in teoria sì Ehm Se abbiamo fortuna dovremmo riuscire A ottenere uno stack di clay Facciamo così Facciamo di nuovo così E ok Con tanta pazienza Ci mettiamo qui E le facciamo tutte Chi va piano Va sano e va lontano E quindi noi andremo piano Sano E lontano Voila Li posizioniamo tutti E' una roba di questo tipo E facciamo così Boom E' uno stack? E' uno stack Ehm Ora Bisogno di altra sabbia E di un po' di gravel La gravel Dovremmo averla qui Prendiamo uno stack intero E uno stack intero E uno stack intero Signori Dovremmo esserci Alla grandissima Uno Due Tre Due stack di Groot Li andiamo a posizionare Tutti qua dentro Posso mettere solo tre alla volta? Mi prende in giro Mi prende in giro Mi prende in giro Secondo me Mi prende in giro E' un po' scomodo Però è l'unico metodo che abbiamo Ehm Visto che abbiamo bisogno di un carburante Mettiamoci dentro Il nostro stackettino solito Di charcoal block Tanto qua è costantemente pieno Cioè E' troppo piccola Mettiamo dentro Lasciamo iniziare a cuocere Sta generando la temperatura Potrebbe volerci un po' Sicuramente Cioè capire se poi la temperatura Ogni volta che finisce un blocco Si resetta o rimane caldo Potenzialmente Se funziona come la meccanism Dovrebbe restare Come la pneumaticraft Dovrebbe restare tutto caldo Lo speriamo Boia che lento Scusa è uno di questi Quanti cell bricks mi da? Piccola domanda così Mi da un ingot Porca vacca Ho commetto idea Rimuoviamo sto coso Ehm Non ho molta clay Perché questi ormai li ho trasformati Qui non posso neanche ritrasformarli in clay Purtroppo Ehm Mi piacerebbe Prendere un altro po' di clay E fare non questo Ma con il leak dei lingotti A questo punto Anche se poi non posso fare il crust Vabbè posso farlo di legno La situation potrebbe essere un po' lentina Mettiamola così A questo punto facciamo uscire davvero E facciamo i blocchi Con un ingot Con un ingot si è già mezzo riempito? No ma scusa è strano Con un ingot mi fai Un blocco Seared stone C'è un problema Il seared brick Il famosissimo seared brick Non è ottenibile quindi Mi state dicendo Ok Non è vero si può La seared stone diventa seared paver E la seared paver diventa seared bricks E questo Può essere trasformato i lingotti? Non può essere trasformato i lingotti Però è un inizio Cioè ti direi Facciamo così Questo dovrebbe diventare Tra un po' Solido E dovremmo essere Abbastanza contenti Solido Solido Ora un seared stone Che diventa un seared paver E abbiamo un seared brick Ok In realtà non serve per forza seared brick Anche la seared stone andava bene Però il brick è quello classico Se faccio così posso andare all'infinito No non posso andare all'infinito Scherziamo Potrebbe volerci un po' signori Quindi Ora aspetterò di ricevere un altro po' di seared bricks Anche perché a questo punto mi sorge spontanea domanda Questo che cacchio serve seared bricks Perché Qua non posso fare i crafting in cui ho bisogno Cioè ho bisogno di Tutt'altro Sicuramente posso fare Un tool forge Non so con che blocchi Però con dei blocchi Potrò farlo Posso farlo normale Semplice Col ferro Una volta fatto questo Ok col ferro posso farlo Potrò metterci Ehm Sopra un lingotto Versarci dell'oro E l'oro dovrebbe darmi Il cast Una volta ottenuto il cast Potremmo fare I seared brick È un casino? Ma decisamente Però è quello che dobbiamo fare Ok ho i miei 3 seared bricks Quindi ora vado a prendere Un po' di questo Un po' di questo E faccio questa whatsapp Ovviamente Che voleva salutare Non so che anche lì ve l'aspettate Lo dice o non lo dice? Lo dice Lo dice Lo dice Fidatevi lo dice Allora facciamo così Creiamo la tool forge Che se non ricordo male Si fa così No una tool station Bisogno dei miei blocchi di ferro Un 9 18 E 7 Ci arrivo 36 Facciamo i nostri 4 blocchi di ferro Possiamo creare la nostra amichetta Perché devo fare così 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 E Così E abbiamo la tool forge Che se non era Ciò che ci serviva Era ciò che ci serviva giusto? Non era ciò che ci serviva Sono un deficiente Detto questo Comunque la terremo perché Servirà forse In futuro Per fare cose Virà E sì che serve Per fare i picconi Per fare le cose Quindi ho solo avanzato Il tempo Ma in realtà ci serviva Ehm Piazziamola Qui da qualche parte Ehm Con i miei serial bricks Non posso fare ciò di cui ho bisogno Quindi forse Però ci proveremo comunque Perché l'oro qui ce l'abbiamo Ne ho smeltati 3 Quindi devo Al posto del Casting basing Devo cercare il porcelain Casting table Ok Sono sempre sette pezzettini Prendiamo sette sette Ok Abbiamo il nostro Unfiled porcelain Che andremo a cuocere E ci siamo Lingotto Uno stilingotto Senza manco farlo apposta Era già nell'inventario Perché l'avevo usato Per fare il piccone E useremo questo Come base Per creare il nostro cast D'oro In teoria Se tutto funziona Come dovrebbe Spero Funzioni tutto Come dovrebbe Ehm Mettiamo questo di qua Leviamo questo Che non ci serve Facciamo così Ci mettiamo dentro il lingotto E facciamo così In teoria Dovrebbe riempirsi Sono tre lingotti giusto Che servono per fare questa roba E ora abbiamo il nostro Bellissimo e simpaticissimo Ingot cast Nel momento in cui io Torno di qui Posso far uscire questo E se c'è uno su uno Mi darà il mio lingotto Di nuovo D'oro Quindi servono solamente due In realtà di lingotti d'oro Ottimo Posso tornare a mettere il gruot qua dentro Che con molta calma Mi darà i miei seed bricks Che sono ciò di cui ho bisogno Per creare La smelta di vera e propria A questo punto Mi sorge spuntare un'altra domanda Ma non è che sto coso allora Magari non regge temperature altissime Però se smelta l'oro Voglio dire Qualcos'altro riuscirà a smeltare 116 Devo dire se quello di cui ho bisogno io Può arrivare ad avere questa temperatura oppure no Anche se c'è da dire che il fatto principale è un altro E' un po' una palla Dover mettere solo 3 alla volta Se non sbaglio Nella smelta di quella vera e propria Può metterne di più E quindi ecco Mi piaceva metterne di più Mentre aspettiamo che Finisca di cuoce tutte le robe Potrebbe doderci un po' Perchè 3 alla volta Con questa velocità E' davvero lento Ho messo anche un hopper Così non devo riempirlo io manualmente Stanno uscendo un po' alla volta Però è comunque abbastanza lentino Come processo Nel frattempo Ho già costruito le prime cose Con i lingotti che ho recuperato Non è tutto Ci mancano ancora un bel po' di robe in realtà Tra cui tutti i vari blocchi Quindi bisognerà collegare Qua fare un 3x3 di Seared Bricks E attorno metterci altre robe Per chiudere tutto Qua abbiamo il drain Con il faucet Dove uscirà il liquido All'interno del casting basin Che ancora non abbiamo Del casting table Scusate Di qua abbiamo Il controller Il tank E il furnace controller In teoria Sono tutte le cose Di cui ho bisogno Mi mancano poi solamente I mattoncini Visto che volevo realizzare Come vi dicevo Una roba un po' più particolare Con i post Volevo provare a metterci Qua sono tipo un mezzo cratere Con delle fiamme Delle robe particolari E proprio Volevo provarci a mettere I post Questi qua Quelli di legno Ho visto Che il treated wood Non è così infattibile Perché noi possiamo Ottenere Il creosot bucket Abbastanza Semplicemente Mi basterà Mettere All'interno Di Di una lesson forness Che noi abbiamo Un upgrade Si tratta Della Pyrolitic conversion Ti direi Mi sembra Abbastanza sensato Farlo Perché puoi elevarlo E poi rimetterlo Quando non hai bisogno È molto semplice Serve Aspetta No cacchio serve Redstone servo Ribecchiamolo Lo ribecco Lo ribecco Lo upgrade Di cui ho bisogno Eccolo qua Augment pyrolitic coso Nether brick Dovremmo averlo Basta della netherrack Netherrack Che abbiamo Un, due, tre, quattro Andiamo a cuocere Poi Devo fare il resto un servo Quindi è un po' di redstone Un po' di questo Un po' di copper Da Smaciullare Con il mio bellissimo martello Non questo Ma Questo L'aeron hammer Lo mettiamo qui Prendiamo l'aeron hammer E smaciulliamo Ci dovrebbe dare le plate Alla grande Cos'altro serve Ehm Basta Un invaringot Non so se ce l'ho Dell'inva a disposizione Magari si magari no Ce l'ho Ottimo Quattro pezzi giusti Di lusso Devo solo andare a cuocere Questi quattro pezzettini Di netherrack Estetico Ma magari Questo Questo amichetto Potrebbe risultarci utile Il creosot oil Non lo so Potrebbe come non potrebbe Per il momento Noi comunque lo facciamo Perché siamo interessati Ehm Manca il servo Facciamo il servo Ce l'abbiamo E possiamo fare anche questo Allora Inserendo questo qua dentro Posso levarlo quando voglio Però ora Possiamo generare Questa roba qui Non so Se riesco a Prenderlo Con un secchio Onestamente Non lo so Però nel frattempo Andiamo a dormire Male male Metto un tank sopra Ehm E lo prendo poi con secchiello Ad ogni modo Per fare il creosot oil Necessitiamo Di eh Legno Se non sbaglio il legno già va bene Ehm Dov'è Creosot oil Ok Allora 100 MB Tutti 100 MB No Questo c'era 250 MB Quindi andiamo a smeltare un po' di carbone Prendiamo un po' di carbone Ci darà anche il coal cock Che potrebbe servire in altre situazioni Ci sono Altre mod che utilizzano il coal cock Prendiamo tipo 16 pezzi di questo E facciamo 16 coal cock Dovrebbe darci Abbastanza roba Non ho bisogno neanche di tantissimo Di questo Tutto questo Ambaradam Quindi Vediamo Magari si riempie il tank E siamo a posto 250 Per pezzo di carbone Dovrebbe essere positiva Vedete È cambiato anche La ricetta Ehm È cambiato anche il sistema Ehm Ora è marroncino Di qua bianco Questo è marroncino Perché c'è l'olio in teoria Sta spremendo fuori Il creoso Il carbone E sta realizzando Il coal cock Giusto? Dammi sto secchiello Ok 250 Se faccio così Non mi da Kaiser Allora Andiamo in alto E mettiamo questo E mettiamo questo come Di un input Di un output C'è un qualche tank Semplice Ah ce l'ho qua il tank C'è il fluid tank Che problema c'è? Facciamo così Facciamo configur Input Pull Ora ci abbiamo questo qua dentro Posso prendere il secchiello Ehm Devo arrivare a mille E poi in teoria Mi da automaticamente il secchiello Andiamo a prendere già del legno Quindi E proviamo a costruire questi post No? Tutto il principio era Era per fare quello Post Quanto cosa ci vuole? Della pietra Ho finito la pietra Ottimo Arrivato? Sette e cinquanta Dai che ne manca uno Forza Ci siamo? Eccolo qua Nostro curioso è il bucket In teoria Facendo così Ottengo Mamma mia Ce l'abbiamo Anche dopo la stone block Finalmente ce l'abbiamo Ok abbiamo il Wood Planks Ehm Treated Devo fare così 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 Ok Ho tre di questi Che mi fanno fare un post Però un post è meglio di niente Cosa devo metterci lì? Bella domanda Devo mettersi un brick stone Ho bisogno di altra pietra La mia domanda potrebbe essere Non scontata Ma se c'è quell'upgrade Comunque il resto io posso cuocerlo Oppure no? Non posso cuocerlo il resto Quindi andiamo a rimuovere l'upgrade E ne ho poi c'è la nostra redstone E siamo tutti contenti Ah Ce l'abbiamo Il nostro primo Woodenpost Tra l'altro posso piazzarlo qui? No perché questo non è abbastanza alto Voilà E qui abbiamo ancora 250 250 Li mettiamo questo Ci mettiamo un, due, tre Prese di sette di carbone Così abbiamo un altro secchiello Nel caso servisse Probabilmente servirà Questo non lo andremo a inserire Qua sotto Quindi bisogna scavare un po' E niente Sai che forse potrei alzarlo ancora di uno Perché questi sono abbastanza alti Non ho uno, due, tre Sono quattro blocchi Alziamo ancora di uno tutto Ok Qua? Si sta rimpendo? C'è ancora spazio Siamo in attesa Iniziamo a costruire il nostro cratere Dove essere un bel cratere Con mezza esplosione Potremmo anche fare un vero e proprio blocco di redstone Di TNT E farlo esplodere Potrebbe addirittura avere senso Perché così sblocco una missione che avevo In Blocco Veramente non l'avevo ancora fatta Perché le TNT non contavano Allora, quattro blocchi Per inciso Qui possiamo piazzare il nostro primo amichetto Giusto? Ok Già fatto che vede retto da sta roba Mi piace un botto Mi piace davvero un botto E al posto di questi blocchi che ci sono qui Metteremo qualcosa tipo fuoco Cioè sembra che Che stiamo Dando energia a tutto il sistema Potrebbe vedere qualcosa di figo Intanto prendiamo un altro bel secchiello Di criosot oil E appena altri otto pezzettini di legno E si va avanti Voilà Abbiamo messo tre amichetti Direi che Questi due possiamo spostarli un blocco più indietro E siamo contenti Per cui la storia purtroppo è davvero lunga Per oggi ho terminato il tempo a mia disposizione Quindi noi ci vediamo domani alle 7 Con la smelte ripenso funzionante Andremo a creare finalmente Questa testa di Picaxe Che mi porterà a prendere il cobalt E nulla Io vi saluto e vi ringrazio Ci vediamo domani alle 7 Buon prossimo episodio del 7 Ciao turuturututti Ciao